Federico Faggin Fisico, inventore, imprenditore e autore italiano naturalizzato statunitense. È stato il progettista del primo microchip commerciale, l'Intel 4000 A4 basato sulla tecnologia M.O. S. Silicon Gate da lui stesso ideata e realizzata nel 1968. La Synaptics, ditta da lui fondata nel 1986. Ha realizzato le tecnologie del touchpad e del touchscreen, che hanno rivoluzionato come interfacciare con i nostri dispositivi mobili. Nato a Vicenza nel 1941, Faggin vive nella Silicon Valley, in California, dal 1968. Nel 1974 Faggin fondò l'azienda Zilog e dette vita al famoso microprocessore Z80, con miliardi di pezzi venduti fino ad oggi. Fra le tante premiazioni, onorificenze e i riconoscimenti ricevuti, Faggin è stato insegnato del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e del prestigioso The National Medal of Technology and Innovation, che gli è tutto insegnato dal presidente Barack Obama alla Casa Bianca. Nel 2011 Faggin ha fondato, assieme alla moglie, la Federico End, Elvia Faggin Foundation, per lo studio scientifico della coscienza. Nel 2019 ha pubblicato la sua autobiografia intitolata, Silicio, dall'invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza. Faggin ha appena completato il suo secondo libro, interamente dedicato alla natura della coscienza e della realtà.